Quino è la chiesa dei Cappuccini, qui c'è il corpo di Sant'Ignazio di Santià, vedete il corpo, però ovviamente la cosa fondamentale è il Santissimo Sacramento, qui ci fu un miracolo eucaristico. Ci furono i francesi, intorno a 1640, che qui fecero cose molto brutte qui in chiesa, uccisero persone, eccetera. Poi uno di loro si avvicinò a un uconotto, si avvicinò per rubare Santissimo Sacramento e ovviamente rubare soprattutto le apisside e poi anche ovviamente le particole, magari fare sacrileggi. Uscì dal tabernacolo un fuoco, la persona fu, quest'uomo fu rimase scioccato, lasciò stare tutto, ecco in questo luogo ci fu questo grande miracolo eucaristico, ringraziamo il Signore per questi grandi segni che ci dona, ecco qui, in questo luogo ci fu il grande miracolo che abbiamo detto, che fu appunto poi studiato a fondo dal, qui dalla curia diocesana di Torino, ecco vedete l'attuale pala dell'altare, c'è una bella immagine della Madonna, Signore Gesù donaci più grande fede nella tua presenza eucaristica, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, abbiamo, ecco la chiesa, ecco come abbiamo detto il corpo di Sant'Ignazio di Sant'Ignazio, Sant'Ignazio prega per noi, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.